Sì, sì, sì te lo ho detto, più vicino a Teo più vicino, più vicino ehi, stai in mezzo dai, dai, dai dai, 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 dai dai, dai, dai dai, dai, raga bravo, ciccio su, su dai, che no dai, subito, vai, vai non guadagnarmi troppo scampo qualche prima, dai avanti, avanti vai, parti vai, raggio dai, dai, dai dai, dai, dai va bene avanti, avanti fermo lì, fermo lì, va bene fermo lì, fermo lì nella metà carta bravo così, fatti vedere te dai, avanti, affunghi vabbè dai, vai viva, vai viva avanti, dai, vabbì affunghi sì, vai, vai vai, vai aspettalo bravo, ciccio bravo, andrea vabbè, non ti scacciare troppo vieni, vieni vai uno, uno guardi in mezzo bravo bravo dai, andrea 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 vieni da fisico dai oh, Marco venga dai, dai, ragazzini va lì, va lì, vasco, va lì, vasco, subito vai prenderlo ancora va bene, dai no, è verde questo verde? verde questo è arrivato tutta la gamba è arrivato tutta la gamba vasco, passa uno damas 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 diamolo, vasco dentro uno vasco, mettila bene tre minuti sono tre minuti e mezzo tre minuti e mezzo cercati i compagni rinvia te, te l'ora stai davanti lì stai in mezzo stai in mezzo stai in mezzo stai in mezzo bravo bravi 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 buono 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 dai alessi ragazzi ogni due dai subito subito Marco Marco Vai su, vai su, vai su Veste, punto No Aiutare, Ricci Bravo, l'altro Bene Stefano, ti tira convinto in porta Robi, cringi verso Teo Aiuta Teo Dai Andrei Ricci, occhio che arriva di qua, arriva Urla, urla Dai, dai Siamo un po' scoperti Dai Marco Robi, tu, astringi Stringi, adesso, quando noi non ci dobbiamo farlo, aiutati Come prima Dai Dai, 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 dai Andrei! 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 Fa niente, dai torna! Farsi vedere! Ehi! Vai a lei! Vai vai! Le mani! Le mani a lei! Teo! 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 Dai! Dai a lei! Aspetta! Aspetta! A te, vedi! Dai! Dai a lei! Tirati! Tirati! Bravo Ricky, dalla finestra! Bravo Carlo! Golla! Guarda Marco! Goi! Bravo Marco! Bravo! 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 Rimani là, rimani là! Unici! Bravo, undici! Provaci! Davai! Davai! Lasciala fa! Guarda! Bravo Marco! Tieni lui! Tieni lui! Guarda che è lungo il rinvio eh! Giù! Guarda che si vuole! Guarda che è rimbalzo eh! Tieni in palco! Via! Uomo! Vai! Vai! Aiuta! Giusto 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 giusto! Oh! Oh! Aiuta! Grazie! Voi, vedi! Bravo Rico! Bravo! Voi, vedi! Voi, vedi! Bravo Rico! Bravo Rico! Voi, vedi! Voi, vedi! Bravo Rico! Non lo faccio vedere, sono fermi, vieni pietto, vai via dalla faccia, ora via dalla faccia, non dire in mezzo, lascia libera la faccia, dai uno che ti inserisca. Guarda qui, guarda qui. Prima Toma! Stiamo lì! Bene Tomy, tienilo solo, tienilo solo. 10 minuti 10 minuti attenzione 9.55 che chiede compagno? che chiede? che chiede? io lunga vasco non ho fischiato non ho fischiato non hai ragione posto ti ha chiamato voce ti ha chiamato voce ti ha chiamato voce leo sali che è nostra Carlo vieni in mezzo qua vai prenderla guarda Carlo Ale dai 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 Ale aiuta non ti girare mai vai Ricchi no bene Ricchi ma le palle dove sono finite tutte ragazzi quella lì ce n'è una palla lì pure ce n'è anche una di là di là dell'altra parte trenti anche di là trenti anche di là avanti rabia avanti madonna oh dai io vai Ale dai 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 che dai Sì, non saltare! Dai, salite! Dai, vai, vai, vai! Adesso! Dai a lei, bravo a lei! Oh, Carlo! Vai in porta! Davanti! Bravo, Ricky! Bravo! Calmo! No, no, no! Vienila, girti dall'altra parte anche! Girti di là! Oh! Andre! Bravo, Teo! Buona, è che è nostra! Ricky, frega! Va bene, dai, Ricky, va bene! Dai, dai, dai! Bravo! Vieni! Ragazzi, parlatevi un po', chiamatemi, eh! Dai, Andre! Dai, non ci sali! Calma, con calma, con calma! Oh! Guardalo, eh! Lei in terra e chiami! Dai, di guarda, dai! Dai, che cercano! Vai, che cercano, subito! Subito! Adesso vai! Ed estamos waiting! ComeFC! Bravo,lah! Ah! dai dai ancora Fabio 3-3 dai Lore passo di spingere anticipa bravo Marco aspetta 2 siete qua Fabio teo teo uno contro uno non li vai contro se anche tu giro deve essere tu te lì non anticiparlo il tema è giomento te di fuori avanti avanti bravo Ricchi dai 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 da porto da porto da porto dai 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 Vai tu, vai tu, vai tu! Dai Chiango, dai! Questo è tuo! Non possiamo perdere la marcatura dietro di Carlo? Stava! 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 Veli in mezzo eh! Che c'hai eh! Ehi, a chi la ti porta? Fabio! Fabio! Subito, subito la B! Bravo la B! Che uomo che sarai dietro Carlo! Bravo, bravo! Buona qua! Bravo Marco! Bravo Marco! Andrea! Andrea! Non direi che stai là in fondo! Eh! La prendono sempre loro qua! 3 minuti e 10 manca! Teo, non c'entrare eh! Teo, non c'entrare eh! Teo, ho detto non c'entrare e la tiri in mezzo! Subito, la tabla! Dai Ciccio, bravo! Dai, va bene! Dai, Ricky! Dai, Ricky! Dai! Dai! Dai, bravi! Dai! Va bene! Va bene! Dai che adesso entra! Dai che adesso entra! Dai che adesso entra! Dai che adesso entra! Bravo, Ricky! Bravo! 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 Come fate di andare fuori laterale! Se lo ribatti davanti... Dai, dai! Bravo, dai! Bravo, bravo! Bravo, Fabio! Bravo, Fabio! Bravo! 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 Che faiciata ancora! Con i due metri distante! Dai dai, vai vai! Uh, che bella palla che la hai scelto! Nooo! Bravo! Bravo! Oh, è facile che la viva! Ce dà quei colpi! Ci dà una gran palla e poi... Bello! non mi stai scuola 2 minuti ci vado 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 vai veloce vado 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 ottimo dai 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 a lì dai a lì dai a lì c'è lì ho due calci d'angai io ho fatto in manatura uno è un arbitro lascia la Marco Fabio facci vedere te bravo ciccio grande ciccio torna torna bravo uuuu cosa te lo fa giosta subito dai o dai o le dai o le dai o le dai o le dai ancora Ehi Fabio!